Bocconi avvelenati vicino al canile. Confermata dalle analisi la presenza di sostanze tossiche nel cibo trovato in due vaschetti in un campo alla Madonnina dove vanno a passeggio i cani. Montecucco, vandalismi e degrado. Viaggio nei problemi del parco alle porte della città seguendo le segnalazioni dei cittadini arrivate alla nostra redazione. Alpini pronti alla festa granda. Da venerdì a domenica prossimi la manifestazione provinciale a Castel San Giovanni. Intanto oggi le penne nere di Piacenza hanno ripulito il campo d'attori. Il tradimento corre online. Anche 3.000 piacentini tra gli iscritti del più famoso sito di incontri su internet i cui segreti sono stati recentemente violati dagli hacker. Domenica di calcio vero. Domani Pro Piacenza impegnato a Lumezzani in Coppa Italia. Tutte in campo le squadre piacentine dalla eccellenza alla terza categoria. Unica eccezione la Serie D. Piacenza e Fiorenzuola non conoscono ancora gironi ed avversari. Giovedì intanto si affronteranno in amichevole.